Come dicevo prima agli allievi carabinieri, si tratta di un nuovo modo di comunicare, di spiegare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, gli stupefacenti, innanzitutto perché c'è una unione tra forze dell'ordine, magistratura e avvocatura che non sempre si trova. Seconda cosa la teatralizzazione, cioè la forma di fare teatro e spiegare queste problematiche come se fosse uno spettacolo teatrale è molto più efficace di un convegno, di una lezione. Inoltre un'altra nostra particolarità, quella dei senza appello, è quella di rivolgersi ormai alle forze di polizia, ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza per cercare di collaborare tutti insieme, non parlarci separatamente ma parlarci tra di noi e poi parlare ai ragazzi, agli studenti sempre ai fini di educazione e alla legalità.